Il tifoso pennese è stato prelevato dall'ambulante Il tifoso pennese è portato in ospedale e al momento della partenza era cosciente In bocca al lupo per una pronta guarigione Andiamo a vedere i momenti salienti della gara prima dello stop Dopo lo stop forzato dovuto alla situazione Covid Il penne torna in campo con l'obiettivo di dare continuità a quanto di buono fatto nella seconda parte di stagione Per centrare la salvezza diretta Al Colangelo arriva la capolista Vezzano Lanciato ormai verso il ritorno in Serie D Ma che deve rinunciare agli squalificati Laguzzi e Dosantos Bisegna al tredicesimo prende palla, punta la porta ma calcia alto Quattro minuti dopo arriva il vantaggio ospite Corner battuto da Bisegna sulla testa di Blanco che da pochi passi non sbaglia e fa 1-0 Reagisce il penne prima con medaglia che conclude dal limite Venditti blocca E poi al ventesimo con Venditti che atterra Cellucci E per il signor Diego Castelli di Ascoli Piceno è rigore Dal dischetto si presenta Cacciatore che calcia centrale e porta il risultato in parità Queste le parole di Mister Iodici al termine della gara Ma niente, visto le condizioni della persona che sta sinomale Tra cui il padre del nostro vicepresidente Quindi la cosa è sembrata subito grave Quindi penso non era il caso di continuare Quindi siamo stati d'accordo tutti quanti con la Vezzano e con l'Alpe Quindi vista la situazione ancora adesso non sappiamo com'è la situazione Ma le notizie che ci arrivano non sono belle Però speriamo che arrivano notizie buone Quindi abbiamo deciso di impiare la partita perché secondo me non era il caso di continuare